Condannati per corruzione i legali rappresentanti di 10 società operanti nel territorio pistoiese a conclusione del procedimento originato dall'indagine Untouchable sugli appalti truccati in provincia di Pistoia. In particolare la responsabilità delle società è stata riconosciuta per 45 episodi di corruzione consumati nell'ambito di appalti aggiudicati dal Comune e dalla provincia di Pistoia tra il 2008 e il 2012. Alle società sono state applicate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.580.000 euro e è stata inoltre disposta la confisca di valori per un importo complessivo di 4.750.000 euro. A tre società è stata applicata anche la sanzione interdittiva, cioè il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per periodi compresi tra un anno e due anni. Nel parallelo processo per l'accertamento delle responsabilità penali e personali 14 imputati sono stati condannati con sentenza definitiva per reati di corruzione e di turbativa d'asta.